la situazione odierna nelle piazze, nei mercati. E' ancora l'incertezza a dettare legge nelle principali piazze finanziarie europee. Le borse continuano ad essere sotto pressione, dunque volatili, ma in questa prima parte di giornata tentano di rialzarsi, dopo il crollo pesantissimo di ieri che ha visto Piazza Affari perdere oltre il 4%. Ma oggi la tensione non ha toccato tanto i titoli azionari quanto i prezzi delle materie prime e dell'energia. Volano infatti le quotazioni del gas naturale. Il prezzo è da record sulla piazza di Amsterdam. E' salito a 194 euro a megawattora. Lo insegue il petrolio. Il Brent è ai massimi dal 2013 ed è arrivato a oltre 111 dollari al barile. Ma il prezzo potrebbe subire altre oscillazioni in attesa della riunione dell'OPEC, a cui partecipa anche la Russia e durante la quale si dovrebbero decidere i livelli di produzione. Ma la guerra in Ucraina, paese definito il granaglio d'Europa, sta facendo lievitare anche le quotazioni del grano e del mais. Il frumento è al top. Negli ultimi 14 anni non è arrivato mai a superare i 10 dollari allo staglio, l'unità di misura internazionale che è pari a 27 kg. Aumenti che si rifletteranno sulla vita quotidiana e che alimenteranno l'inflazione, con effetti negativi sulla ripresa economica europea e non solo. In questo scenario si aggiungono anche gli effetti delle sanzioni decise dalla comunità internazionale contro la Russia. Anche oggi la banca centrale russa ha sospeso per il terzo giorno consecutivo le attività della borsa di Mosca. Il rublo ha toccato nuovi minimi. Prima del conflitto per un dollaro occorrevano 73 rubli, oggi 109, e perde anche rispetto all'euro e scambiato a 122. Sempre più in difficoltà per via della sanzione, che impedisce alla Russia di usare il suo oro e le riserve valutarie, la banca centrale di Mosca ha imposto alle compagnie russe di non distribuire dividendi agli investitori esteri. Una decisione che accende riflettori anche sulle nostre banche. Unicredit e San Paolo, tra prestiti e finanziamenti ad aziende russe e italiane, sono esposte con la Russia per oltre 25 miliardi di euro. Ma oltre a questi crediti, secondo la Fabi, il sindacato dei bancari italiani, si devono sommare anche 6 miliardi di garanzie. Oltre 30 miliardi di euro che rendono il nostro paese, dopo l'Austria, tra i più esposti ai rischi con la Russia.